Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo di preferiti perché è un bel po' che non li ho fatti e quindi mi sembra arrivato il momento di fare un po' il punto dei preferiti di febbraio e marzo insieme così vi parlo un po' di tutte le cose che ho ascoltato, ho visto, ho letto e ho anche comprato e provato su me stessa quelle le lascio in fondo come sempre frivolezze per ultime prima parliamo ovviamente di musica, abbiamo un sacco di cose da dirci allora parto con il mio disco del mese, dei mesi, che rimane uno devo dire che non è uscito molto negli ultimi mesi, o almeno che piacesse a me o che io abbia ascoltato a ripetizione, ma c'è un disco che io ho messo su e non ho più lasciato che è Lux Prima di Care No e Danger Mouse vi avevo già citato un po' di mesi fa il singolo che è Woman, che è devastante e se non l'avete visto andate a cercare su YouTube il video girato live per il Late Night di Stephen Colbert e che è diretto da Spike Jonze, io ho visto la luce con quel video Spike Jonze, che fa Spike Jonze, cioè che torna a fare qualcosa di epico bellissimo, è un qualcosa di corale pazzesco, cioè insomma andatevelo a cercare e Lux Prima che io attendevo ovviamente tanto è un disco che ho bruciato praticamente è un pop viscerale molto di intrattenimento sicuramente perché comunque riprende tante cose sixties, ha questi suoni, la voce di Karen con questo effetto sopra sempre sono questi suoni molto, quasi caldi Care No è la cantante degli Yeah Yeah Yeahs che sono una delle mie band preferite e Danger Mouse ha un'esperienza con una band che forse avete sentito nominare tantissimi anni fa ovvero In Our Sparkly per il singolo Crazy che mi ricordo che in Italia andò moltissimo però in America hanno una carriera lunghissima è davvero pazzesco, questa collaborazione la trovo una delle più riuscite, interessanti e questo disco secondo me è proprio evidente come volesse essere un disco per divertirsi in primis di chi lo ha fatto ma soprattutto anche per il pubblico perché ha queste atmosfere molto diverse tra di loro ma che sono congiunte da uno spirito secondo me è evidentemente divertente evidentemente ironico evidentemente vuole essere un disco che arriva subito, immediato ed è pazzesco io poi ho una passione per la voce di Karen perché la riusci a riconoscere tra un milione ed è tutto bello ed è tutto bello andatevi a vedere anche il video diretto da Spike Jonze perché è qualcosa di devastante poi così mi attacco anche per i singoli l'altro disco che come tutti ho ascoltato moltissimo in questi due mesi in questo mese poi in realtà è il nuovo album di Billie Eilish e vi devo dire una cosa ormai è messa sulle balle Billie Eilish so che è super impopolare come opinione però non so sarà che secondo me tante cose che fa per quanto le faccia fighe ed è brava non metto in dubbio però forse è anche perché riprende intanto tante cose già sentite che facevano dieci anni fa ma dieci anni fa erano underground super indie non se le cagava nessuno e ora le fa lei e quindi così è come sempre un problema di tempistiche c'è chi le faceva dieci anni fa bene non che lei non le faccia bene però non lo so mi fa sempre un po' strana questa cosa però forse che nell'ultimo mese si parla solo di Billie Eilish quindi io ce l'ho qua ormai non giuro non ne posso più ma anche perché non è uscito niente di altrettanto valido quello glielo riconosco comunque devo dire che del disco nuovo il mio singolo preferito rimane Berea Friend perché trovo molto interessante tutto il concetto è molto sognante come pezzo poi mi piace molto il senso di when we all fall asleep where do we go non so suona molto bene questo però rimane il mio preferito del disco perché è molto cupo come pezzo ed è così detto ciò altri singoli che io ho amato un sacco e questa è colpa della radio di radio dj che lo mette sempre no che lo mette spesso ultimamente è la More Plastic di Videoclub che è una band francese ed è esattamente pop francese eco anni 80 eco synth pop cioè tra tutte queste cose qui e per me è super divertente ricorda poi l'FM ricorda tanto pop anni 80 e anni 90 francese cioè insomma è tutto giusto e secondo me è molto carino perché è molto ripetitivo insomma ha tutti quegli elementi che a me fanno amare questo tipo di di musica no e quindi ve lo consiglio tantissimo giù nell'infobox ovviamente trovate tutti i link poi altro singolo che ho ascoltato tanto perché mi è apparso nei suggerimenti così è dei Be Curious che è una band che definirei tra l'hardcore e lo showgaze ma anche indie cioè beh non so sono un po' strani e sono molto veloci a me piacciono molto ok I don't do drugs I just sweat a lot che è una parte da un pugno nello stomaco ve lo consiglio tanto è davvero super super figo come pezzo andiamo ai live live del mese dei mesi in realtà sono due uno è un live che io avevo rimandato da tanto cioè quello dei 21 pilots perché avevo la paura che dal vivo non mi piacessero so che è una cosa irrazionale però a me piace la musica suonata vedere due persone che fanno tutta quella roba lì avevo paura che mi risultasse molto strano nel senso che è una cosa che a me non piace come mettere le basi tante basi eccetera in realtà da vivo mi sono piaciuti un sacco mi sono divertita tantissimo è stato super bello scenografie bellissime tanti momenti molto teenagers che no però devo dire è stato divertente bello hanno una voce pazzesca cioè sono entrambi super bravi secondo me cioè capisco che non sia nel loro però vederli con una band completa a me forse non sarebbe dispiaciuto almeno avrei avuto meno l'impressione delle basi perché ovviamente è tutto base quello che fanno però devo dire molto fighi mi sono piaciuti tanto 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 e sono super contenta tra l'altro l'ho visto sia con Ilenia che con Valentina cioè il team di Quasidi e Ilenia è la nostra Ilenia Zodiaco e quindi è stato super figo che hanno suonato qua all'Unipol Arena Bologna e l'altro concerto che ovviamente non avevo dubbi che sarebbe stato così perché li ho già visti sono i Cloud Nothings che ho visto al covo qua a Bologna perché i Cloud Nothings hanno preso e hanno smacellato tutto cioè c'era una violenza nel poco nelle prime file che non vedevo da tempo bellissima la resa del disco dal vivo i singoli vecchi tipo Stay Useless così per fortuna ero in fondo perché penso ci sia stata la macelleria messicana bellissimo bellissimo divertentissimo bellissimo perché proprio c'era una una carica tra tutti che era molto devastante e poi fa super ridere perché loro fanno questa musica super aggressiva poi sembrano non so dei programmatori super nerd e fa molto ridere però super figo è stato bellissimo vi consiglio anche una playlist questo mese perché io l'ho scoperta tra i suggerimenti e mi ha proprio scaldato il cuore in una giornata dove non sapevo cosa ascoltare mentre lavoravo e ovvero vabbè si parla di Arctic Monkeys perché stranamente vabbè lo so che ogni tanto li devo citare perché devo ancora superare il trauma dell'ultimo disco che a me non è piaciuto vi cito questa playlist che ho trovato su YouTube che si chiama Arctic Monkeys in the Rain è una playlist solo di live acustici degli Arctic che spazia da Whatever People Say a Tranquility Base in versione acustica tutti i pezzi in versione acustica e oltre alla loro versione viene anche messo un sottofondo di pioggia è qualcosa di bellissimo rilassante poi vabbè la voce di Alex Turner io vorrei portarmela nella tomba non ci posso fare niente è una playlist super consigliata se siete in un momento relax e state facendo delle cose e volete mettervela di sottofondo fatelo per il vostro bene io ve lo suggerisco arriviamo a un'altra categoria bella consistente perché essendo da un po' che non ve ne parlo ci sono state un sacco di cose molto fighe da vedere questo mese la prima e penso sia quasi scontata che forse l'hanno già detto tutti ma a me non mi interessa che è Love Death and Robots che trovate su Netflix è una serie animata dove ogni episodio viene creato da un team di produzione sempre diverso un team di disegnatori diversi infatti il filologico è sempre più tematico che altro si parla sempre di amore morte e Robo in una maniera sempre molto originale puntata per puntata ci sono puntate che sono bellissime bellissime veramente e io ve lo dico secondo me è la miglior produzione di Netflix ad oggi l'ho detto e passa l'ambulanza non so se è un segnale dall'universo comunque secondo me è veramente una delle migliori produzioni mai messe in piedi da Netflix perché è bellissimo devo dire che le puntate che non mi sono piaciute sono forse due alcune veramente sono da brividi commoventi tutte molto violente preparatevi perché ci vuole una tolleranza di sangue violenza squarta squarta molto alta però è veramente bellissima sono tutte basate su dei racconti brevi che vi linko giù perché ho trovato il link dove sono racchiusi proprio tutti i testi ai quali si sono ispirati per le varie puntate le mie puntate preferite sono quelle della volpe e l'altra ovviamente è Zima Blue perché è bellissima bellissima poetica dei livelli incredibili non so è una serie che secondo me anche a chi non è appassionato di animazione o comunque di temi sci-fi eccetera eccetera può piacere tantissimo perché indaga su alcune tematiche molto interessanti si parla di amore di abbandono di riciclo di ecologia si parla di realizzazione di futuro di cercare se stessi si parla di revenge si parla di vendetta si parla di rabbia si parla di legami amicizia poi ci sono puntate molto divertente come quella dei gatti del pianeta dei gatti non lo so io penso seriamente che sia una delle produzioni più belle di Netflix una di quelle curate che rendono e reggono fino alla fine altre due produzioni animate perché sono stata molto sull'animato più che sulle serie devo dire che non ho guardato moltissime serie tranne Scam Italia 3 che è Babi e Step 2019 non lo so non mi sto cioè alcune cose bene perché alla fine li scippi due protagonisti ma vabbè ma ne parleremo magari più avanti detto ciò invece vi dicevo due serie animate la prima è Dragon Prince che è uscita la seconda stagione e secondo me è una serie meritevolissima è sempre più quando è finita questa serie già pensavo che alla fine della prima sarei stata oddio come si fa arrivare alla seconda la seconda secondo me è addirittura migliore della prima per alcuni versi è una serie che davvero secondo me merita non è non è un prodotto per bambini come apparentemente potrebbe sembrare cioè non lo è solamente ma parla tanto anche a noi più grandi e io l'ho trovata adorabile in tutto molto bella complessa è come si costruiscono dei personaggi una storia di amicizia una storia di sostegno ha tantissimi valori positivi secondo me Dragon Prince che tante altre serie non hanno ragiona sull'interespecismo ragiona sulla convivenza sull'odio sulla guerra e tante 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 altre cose che secondo me sono fighissime se non avete mai visto Dragon Prince dategli una possibilità l'altra cosa che a me è piaciuto molto in realtà è una puntata che è stata la puntata speciale di Big Mouth di San Valentino Big Mouth è una serie super adorabile nel senso che è sboccatissima è super crudele per alcuni versi ma boh io la adoro l'amo perché è veramente divertentissima e sono super felice che finalmente è arrivato il mostro dell'ormone che non vi devo dire se non è spoiler guardatela mi raccomando è la puntata di San Valentino tranne per quella cosa dei cuscini che io ve lo giuro non riesco non riesco a capire perché siamo ossessionati dai cuscini da due stagioni però è talmente fuori di testa che io l'adoro è bellissima come serie è super divertente è un buonissimo prodotto e soprattutto parla in maniera molto scansonata molto cruda di una parte dell'adolescenza molto difficile della quale non si parla mai perché sono momenti imbarazzanti sono momenti strani devo dire che in generale Big Mouth secondo me riesce a rappresentare meglio la parte maschile che quella femminile quella femminile sembra totalmente irrazionale pazza e fuori di testa la parte maschile mi sembra più giusta non cioè è sempre un po' weird però la parte maschile secondo me è più vicina a quelli che sono quei momenti lì lo sviluppo più tardivo di alcune cose eccetera eccetera alcune difficoltà affrontate ovviamente esclusa la parte del cuscino però secondo me risulta molto piacevole molto divertente veramente io lo consiglio a tutti altri due suggerimenti che non sono sul Netflix in questo caso sì anche quelli due precedenti erano su Netflix in questo caso vi consiglio la mia puntata dell'anno preferita fino ad ora di Propaganda Live che è l'unico programma che io guardo in tv del 15 marzo vi lascio giù il link c'è ospite Donciotti la sua intervista secondo me è super interessante tutti dovremmo imprimerci nel cervello certe cose e vanno a Taranto nelle zone dell'Ilva entrambe sono cose molto belle secondo me e ve la suggerisco giù trovate il link è l'unico programma che guardo in tv perché veramente è bellissimo lo trovo super interessante molto lungo molto lento per alcuni versi però almeno è sempre interessante quello che fanno se non l'avete mai visto guardate Propaganda ovviamente e l'ultima cosa che vi suggerisco invece che però mi sembra anche quasi superfluo suggerirvi nel senso che a me è piaciuto tantissimo proprio sono rimasta sconvolta perché per la prima volta io esco dal cinema dopo aver visto un film Marvel senza la nausea cioè io ho un problema con i film della Marvel so che è una cosa molto impopolare da dire ma io gli Avengers cioè nel più ampio spettro del termine Avengers non sono i film ho un problema con loro cioè non mi piacciono i film della Marvel li trovo sempre pieni di buchi di trama super americani in maniera molto stupida e no ma come tutti ho visto Captain Marvel questo mese anzi il mese scorso e a me è piaciuto tantissimo cioè sono uscita da lì gasatissima sì pieno di buchi poi ci sono diversi cambiamenti che sono un po' distanti dal fumetto però devo dire che per la prima volta un film con una protagonista femminile non completamente stupida non completamente strong female character per alcuni versi dalla sì vabbè che è imbattibile però quello è il suo potere di non ci puoi fare niente e soprattutto con una retorica chiaramente di emancipazione femminista eccetera che però non è mai retorica cioè non fa i discorsini perché li deve fare ma spesso ti fa vedere poi non so quando senti dire dimostrami che è lei io non ti devo dimostrare un cazzo cioè io già lì vuoi andare al cinema e abbracciare tutti mi è piaciuto tanto l'ho trovato molto interessante poi a me Samoley Jackson che fa Nick Fury in quella veste lì da Spallacom che tutti non hanno capito però in realtà secondo me è molto vicino anche ai fumetti nella parte prequel no e poi è stato super figo perché secondo me si autocitava continuamente cioè vedi pezzi delle iene pezzi di Pulp Fiction e lui che si autocita boh per me devastaggia la scena in macchina quando fa le battute quando sono all'interno cioè ho apprezzato un sacco mi è piaciuto tanto e ve lo giuro era la prima volta che io vedevo un film Marvel e ne uscivo soddisfatta bene boh strano stiamo impazzendo ma poi arriviamo al game fra un po' quindi vedrete i rant libri del mese finalmente siamo arrivati alla categoria che tanto direi che l'ho già detto in lungo e largo lo sapete tutti libro del mese è sicuramente The Priory of the Orange Tree di Samantha Shannon scusatemi ho la versione farlocca perché è l'arc ma attendo dicembre per comprare la versione italiana penso che sia il fantasy migliore dell'anno degli ultimi anni nel senso che ha tanti elementi classici comunque vi rimando anche alla mia recensione che trovate da qualche parte qua in alto e giù nell'infobox però devo dire che è proprio ti rapisce il cuore è un fantasy veramente meraviglioso impostato bene con un linguaggio pazzesco per me è proprio brava la Shannon uscirà a dicembre in Italia quindi io ho letto la versione ovviamente UK perché me l'ha mandata a Domsbury ma attendetelo segnatelo e non fatevelo scappare questa invece è la graphic novel del mese che sicuramente è Cinzia di Leo Ortolani che mi ha rapito il cuore proprio non so come dire io ho un rispetto in questo momento per Cinzia per la sua storia per ciò che ci ha raccontato Leo Ortolani in questa graphic novel immenso ha un modo di raccontare in maniera davvero ironica senza però mai risultare stupida senza mai abbassare il livello della componente drammatica di queste storie che difficilmente ho visto rappresentate come in questo modo e quindi io mi sono innamorata di Cinzia e fatelo anche voi ok ora il momento sera è finito arriviamo alle cose di contorno varie idee eventuali e partiamo dal make allora la prima cosa che mi sono scordata di farvela vedere il mese scorso in realtà è il Magic Crystal di Lush che è un gel doccia scrub che ha questo colore qui io la uso quasi sempre a parte che ha un profumo buonissimo è super fresco super rinfrescante poi c'è questo colore pazzesco super viola e che è veramente uno dei migliori acquisti che abbia fatto da Lush adesso è un po' più liquido perché c'è finita dell'acqua dentro non fate caso a questo che è il calcare dell'acqua di Bologna della mia zona perché puoi campare quanto vuoi ma il calcare arriva super super prodotto consigliato da Lush così che è un pochino ma io in più di due mesi sono circa metà e giuro che mi lavo invece riguardo al makeup ho fatto due acquisti da Cosmify che penso sia il brand più odiato dell'internet per una serie di motivi che si meritano per l'amor del cielo però ho visto che io seguo sia Tia Taylor che Basic Gaia per alcune cose ho visto i loro prodotti ero molto curiosa e infatti ho comprato un Basic Marble e uno dei rossetti di Tia che ho sentito recensioni assurde su questo prodotto è vero che è molto liquido però me lo vedete addosso ed è diventato il mio rossetto rosso preferito e io ne ho almeno una trentina perché ho un piccolo problema con i rossetti rossi è veramente ha battuto quello di Clio che era il mio preferito negli ultimi tempi primo perché si sparge un po' meno su tutta la faccia ma è molto leggero è molto liquido però si asciuga subito però è molto leggero ma molto coprente quindi non sentite il pesantone in faccia anzi ve l'ho dimenticata abbastanza in fretta e il colore è bellissimo a me piace tantissimo e adesso infatti mi sa che ne comprerò altre colorazioni sono molto curiosa sono anche curiosa di provare altri rossetti della linea Cosmify però devo dire questo mi è piaciuto proprio tanto e poi io ho preso un Basic Marble che purtroppo ahimè ho già fatto cadere distrutto però all'altra parte l'ho salvata perché sono scema io ho preso Ebe che è quello che nessuno ha comprato che è leggermente rosato cotto sul bronzo come illuminante ed è uno dei migliori illuminanti che abbia mai usato davvero bellissimo veramente super super bello e cosa positiva di entrambi i prodotti è che l'Inci è molto buono detto ciò io ho provato solo questi due non ho nessuna palette non ho acquistato nient'altro quindi di queste due collezioni vi posso dire che il prodotto è qualitativamente molto buono sulle altre io non so nulla quindi insomma sono rimasta piacevolmente colpita anche perché i prezzi sono abbastanza accessibili ripeto l'Inci è molto buono e quindi insomma mi sa che proverò a fare nuovi acquisti il mio ultimo preferito sicuramente era intuibile dal mio video dedicato all'unboxing di Cosy Corner Candles dedicato alla linea di Six of Rose e ovviamente è Inège Inège che come vedete non riesco a toccare perché ogni volta che inizio ad non usarla poi ci passo le giornate è veramente una delle mie candele preferite di Cosy insieme al Darkling e a Mia e Inège è buonissimo me la immaginavo molto più incenso molto più orientale così in realtà ha una puntina molto leggera ma per il resto è abbastanza floreale e avvolgente in qualche modo molto vago meno forte perché questo è veramente molto forte mi ricorda il Magic Crystal di Lush perché hanno la stessa punta secondo me che è data sia dalla violetta che dal pepe si ricordano questo è veramente molto strong come odore molto però è molto buono almeno persistente questo devo dire è diventata proprio la mia candela preferita di Cosy e quindi insomma niente io direi che per i preferiti del mese siamo arrivati in fondo che ci sta perché ne abbiamo parlato in lungo e in largo e niente fatemi sapere invece se qualcosa che vi ho citato vi è interessato e fatemi sapere invece quali sono i vostri preferiti che sono molto curiosa detto ciò io spero di avervi tenuto compagnia come al solito e per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao ciao